Per le imprese concessionarie di acque e minerali per il 2020 mantenimento dello stesso regime dei canoni e quanto prevede la PDL d'iniziativa dei consiglieri Zullino, Coviello, Cariello e Sileo della Lega, Baldassarre, Idee e Quarto Basilicata a Positiva, approvata dal Consiglio regionale della Basilicata. Per l'anno in corso, nelle more dell'approvazione della legge di riordino, si continua ad applicare l'articolo 42 della legge regionale del 2 settembre del 1996, la numero 43. e si sospende l'applicazione dell'articolo 6 della legge di stabilità regionale 2020, con cui si prevede che ai canoni annui pagati dalle imprese concessionarie di acque e minerali per ogni ettaro frazione compreso nell'area oggetto di concessione, si aggiungano gli incrementi degli importi del canone relativo all'acqua imbottigliata e un canone ulteriore relativo all'acqua minerale e munta ma non imbottigliata. La PDL, con un emmentamento di Forza Italia, prevede altresì che la giunta regionale, prima dell'applicazione dei nuovi oneri concessori, attivi la telelettura direttamente dagli uffici regionali di tutti i contatori posizionati sulle condotte ubicate tra le sorgenti e le aziende concessionarie, così da quantificare le acque destinate all'imbottigliamento e le acque emunte senza il successivo imbottigliamento. Grazie. Grazie.